La Polizia di Stato di Trapani, con il supporto della Questura di Caltanissetta, ha dato esecuzione un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di quattro persone accusate a vario titolo di intermediazione lecita e sfruttamento del lavoro. È stato inoltre disposto il controllo giudiziario dell'azienda con la nomina di un amministratore per la gestione. L'attività investigativa, iniziata nell'inverno scorso e supportata da sistemi di videoripresa a distanza e intercettazioni telefoniche, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a conclamate condizioni di sfruttamento dei lavoratori impiegati da una società con seda mussomeli in provincia di Caltanissetta nell'allestimento del nuovo punto vendita di Trapani. In particolare, la società gestita da due fratelli di origine nissena utilizzando fraudolentemente lo sfruttamento della somministrazione di mano d'opera avvalendosi di un'azienda di intermediazione, ha fatto sottoscrivere ai dipendenti i contratti di lavoro part-time che prevedevano 24 ore settimanali articolate su sei giorni lavorativi per poi impiegarle a tempo pieno e ben oltre lo stesso orario ordinario previsto anche per contratti full-time. I dipendenti erano costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio per 10-11 ore giornaliere per una retribuzione di circa 500 euro mensili pari a 1,85 euro per ciascuna ora lavorativa senza vedere assicurato in molti casi neanche il riposo settimanale. Inoltre, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti di due dipendenti della società. A carico del primo, addetto alla selezione e gestione del personale, sono stati raccolti gravi indizi sulla sistemazione artefatta della documentazione amministrativa o contabile del personale a partire dal reclutamento, all'assunzione e alla predisposizione delle buste paga. Il secondo collaboratore invece è risultato essere l'esecutore materiale delle direttive impartite dai due datori di lavoro nelle fasi di avvio dell'attività commerciale a Trapani assumendo atteggiamenti vessatori simili a quelli posti in essere dai titolari della società. Dalle investigazioni è emerso altresì che analoghi episodi di sfruttamento del lavoro da parte degli stessi indagati erano stati in precedenza commessi durante le fasi di riapertura di un punto vendita a Castelvetrano avvenuta nel 2018. Continua intanto l'attività investigativa del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme all'Inps per quantificare l'entità complessiva delle violazioni accertate e dei versamenti omessi.